Buongiorno, buongiorno, veramente buongiorno, ci eravamo lasciati e stavo un po' niente, però sono arrivato in il canyon e ho trovato un po' di ferro, mi sono fatto un po' di armature, comunque sono sceso da una parte dove c'era l'acqua, ah no, l'ho chiusa, è vero, adesso scegliamo, ah vi faccio vedere la cazzo un attimo, è vero, c'è un po' d'aula, facciamo così, non commento, vabbè, dunque ho scelto il coso, il sabbio ho fatto il vetro, poi ho preso un po' di carbone e mi vorrei fare i piedini, faccio questo, faccio così, sono questi di cui fanno sicuramente schifo, e mi vorrei fare delle torce, perché delle torce non ne abbiamo, i piedi, e poi ho un universo volando, e cazzo stavano, se li trovi, cazzo ma io ci ho venuto sotto, beh, lasciate vedere, ecco, se ci vanno bene, magari andremo a prendere il caverno, quindi prendiamo questi, e ne mettiamo gioco ecco ecco anche se non ho centrato ora possiamo tornare anche a casa prendiamo le parti sacco il cropped ok, devo fare altri versetti ok, perfetto così, così, così ma, ecco qua ed è bello farlo andiamo in tall'entrata mettiamo anche da qua e anche da qua, l'ho fatto e adesso torniamo ok e adesso e adesso ragazzi direi di andare in miniera visto che ve l'avevo promesso e magari anche per fare qualche farm potrebbe servire diretti ce lo sa certo e poi danno un sacco di esperienza ok scolliamo ancora ci mettevo a livello 11 e iniziamo a scavare e dopo useremo ovviamente la pietra visto che non è una che mi serve tanto non mi sono fatto le torce perché è semplice dai velocemente, grazie magari me ne faccio un'altra vai voglio diamanti ragazzi io sto sbagliando perché devo guardare anche un po' sopra qua e se no sono cazzo da cacare vediamo se sta rompendo il piccone e faremo un altro ripeto perro sono un po' tirchio ok mi si è rotto giugla canna devo fare pure altre arti adesso la prendo per l'esperienza non capisco perché non trovo ancora un diamante visto che io sono abbastanza fortunato con i diamanti un certo ah ok ok io piango Oddio Io so che è mio Voglio vedere se c'è ancora la chiaia Sono un po' dirchio Ci abbasso, per favore Diamanti, diamanti e ancora diamanti Ma che sono quelli Non mi ha detto nemmeno di male Eh, grazie, sì La redstone Che bello La prendo manco più Ah, sì, la prendo La prendo manco più manca manca ancora per trovare un davanti ho fatto i chilometri ho fatto i chilometri ho scommetto questo dappertutto tranne dove sono andato qui scommetto io spero tu mi stia prendendo per il culo sbaglio altezza 11 si può trovare possono trovare solo le puzze di lava o sbaglio non solo tante soprattutto puzze non è niente dove fai lo schifo manca di un po' di lava una caverna grossa porco giuda questa parola mi sembra tommo io questo buore giuro madonna parola di giusappesimo mi sono stancato scusate non ho trovato niente di che però io guarderei sopra perché viene a dire che non ci sono davanti e ora che risalgo io e io non mi fai oh ma Muori grazie per la cordicella per fare l'arco, però mare di notte, che panna, a boh che c'è un'armatura, non lo so manco io senza potenza, cioè no, a boh, ora mi farò full air, penso proprio di andare abbastanza bene. Spero di non trovare subito un creeper, perché sennò mi incazzo, lo dico, ci sta un ragno sicuro che mi sta aspettando qua, è anche peggio, muori, muori, vabbè, dov'è la mia casa, ecco di qui, casuccia, no, 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 no. E' un po' un casino, oh, no, sto appaggendo ragazzi, mi sa, sono veramente spugnato nella parte dove si sta più gente, tu stupido, bibi, sembra scema, ho dato pure l'arco, grazie. Stupido, abbiamo detto questo resto, ho visto che così, così, questo mi serve, perfetto. e adesso facciamo intanto mettiamo qua c'è sta roba combustibile liberale di farlo e dopo che facciamo che dovevo fare che dovevo fare dovevo come lo scende ma no che non ce l'ho un po' stronzi ok perfetto mi piace questa terra la prende può essere sempre utile no vediamo abbiamo il nostro peso ci possiamo finalmente fare anche le gambine e siamo full iron ah pure trofeo grazie mille adesso vado a vivere cos'ha quel commerciante manco la cazzo di cazzo di cazzo grazie ah con dei plastiriconi sede un po' è il primo libro che ragazzi l'abbiamo già provato provato al secondo episodio questa ce la buttiamo questa non serve queste cordicelle un sacco per farmi l'arco l'arco queste carote un sacco queste patate un sacco questi tronchi li prendiamo per sfizio e non vedo lì fortunatamente con potenza cosa ci potevo incantare fa l'arco quindi si incanterà un arco molto probabilmente adesso farò l'incudine visto che è quasi uno stack di ferro vediamo un attimo se c'è un'altra roba allora io no 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 io non voglio non voglio avere problemi con lei no 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 ragazzi no 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 non ci siamo capiti non ci siamo capiti aia aia dio basta bacche di merda sto facendo uno slalom dai grazie andiamo via da qua una roba ce la siamo presa ora siamo pure a posto cazzo è la casa dov'è la casa prego dio che stia qui ti prego cazzo è qua c'è una caverna perfetto no eccola non male uuuu che aveva da mai stracciato di carlo ti prego dimmi che posso dimmi che vieni vieni qua ti spacco si è un po' scarso si è un po' scarso no grazie e ci incantiamo e ci incantiamo devo fare un arco ci incantiamo il nostro arco carissimo il che e adesso direi di mettere in cesto un po' di roba mettiamo questo in cesto questo in茶 ho sentito ISiner JOY CUM NO direi di farmi anche uno scelgo devo farmi altri assi grazie mille adesso posso ci facciamo anche lo scelgo perchè non fa mai male e adesso direi di andare a chiudere la visione e spero che vi sia piaciuto se è così lasciate un like questa è la giornata perfetta facciamo mettere questo e questo a posto e per il prossimo episodio direi di fare altre costruzioni e miglioramenti da casa io vi saluto e bella più ciao